Chiara Salina, come lavorerai durante l'evento? Durante l'evento tramite social farò da tramite tra ciò che avviene all'interno delle sale che ospitano Jobsud e il pubblico esterno che ci segue online. I nostri utenti avranno infatti la possibilità di trovare testimonianze, interviste dei giovani che partecipano, delle aziende, il tutto corredato da foto, da video, tutto materiale prezioso che avrò la possibilità di attingere dal lavoro dei miei colleghi di staff dell'area comunicazione. In più, una cosa che voglio ricordare è che nella sala principale ci sarà un maxi schermo sul quale verranno proiettati i nostri e i vostri tweet se avrete voglia di interagire con noi tramite Twitter. Una novità di quest'anno sarà anche la diretta streaming. Infatti nel sito internet ci sarà un'area appositamente dedicata allo streaming. Chi si affaccerà a quest'area potrà visitare l'evento virtualmente e dare un'occhiata prima di venirci a trovare di presenza.